Le attività investigative svolte successivamente all'arresto di Nicolò Passalacqua con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone hanno consentito alla squadra mobile di accertare la dinamica esatta dei fatti accaduti la sera dell'11 agosto scorso. L'attenzione degli investigatori si è concentrata sull'analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, sull'analisi degli apparati cellulari dei soggetti coinvolti, nonché sull'escussione di tutte le persone, anche quelle coinvolte marginalmente. È emerso che Davide Ferrerio non conosceva il suo aggressore e quella sera si trovava su Via Vittorio Veneto nei pressi del Palazzo di Giustizia attendendo un suo amico con il quale si sarebbe dovuto le gare in pizzeria. Nicolò Passalacqua invece si trovava sul posto insieme a due suoi parenti, ad una ragazza minorenne, alla madre di quest'ultima, al compagno e a un altro figlio della coppia. Il Passalacqua, che era interessato alla minorenne, avrebbe dovuto spalleggiare la ragazza all'incontro che la stessa aveva fissato con un giovane 31enne residente in provincia. La minorenne infatti nei giorni precedenti era stata contattata tramite Instagram da un account con un nome di fantasia che poi si accertava essere in uso al 31enne. Tra i due era stata una breve conversazione dei toni moderati e senza riferimenti sessuali espliciti, all'esito della quale il giovane aveva chiesto di incontrare la ragazza, la quale, su indicazione della propria madre, aveva fissato appuntamento dapprima per le 20.30 nei pressi di un supermercato in zona Farina, poi invece spostato nei pressi del Palazzo di Giustizia alle ore 21. La finalità dell'incontro era quella di scoprire l'identità del cortigiatore, pertanto il gruppo di persone si dirigeva presso il Palazzo di Giustizia e il 31enne, affrontato dalla madre della minorenne, negava ad essere in attesa dell'appuntamento e mentre si allontanava per sviare la comitiva che nel frattempo si era riunita e continuava a cercare il soggetto con cui l'incontro era rissato, scriveva sull'account Instagram della ragazza di essere appena arrivato e di indossare una camicia bianca, mentre in realtà aveva una maglietta azzurra. La ragazza leggeva il messaggio ad alta voce, Nicolò passa l'acqua, appreso il particolare, iniziava a guardarsi intorno cercando un giovane che rispondesse a quella caratteristica, individuando però Davide Ferriero che indossava proprio una camicia bianca e che ignaro di tutto stava aspettando il suo amico per cenare. Dalle immagini dei sistemi, delle telecamere acquisite infatti, si nota passo all'acqua avvicinarsi a Davide Ferriero per chiedergli se fosse lui la persona che aveva dato appuntamento alla sua amica. A quel punto Davide all'oscuro di tutto, verosimilmente impaurito dalla singolare richiesta, si allontanava dal luogo, dapprima camminando velocemente e poi correndo in direzione della casa di sua nonna di cui era ospite. Passa l'acqua, interpretando quell'atteggiamento come una conferma, rincorreva Davide, lo raggiungeva poche centinaia di metri più avanti e lo colpiva con una ginocchiata allo sterno ed almeno due pugni in volto.